Bentornati a Senza. Oggi si racconta ai nostri microfoni il professor Vincenzo Caporale, per 20 anni direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzza e del Molise Caporale, che forse è suo nome e ci racconterà anche perché oggi il professor Caporale che fa? Oggi? È il vecchio, il povero vecchio povero, sono un pensionato di questo Stato e in quanto tale faccio quello. Sa professore che noi in questi giorni, in questo anno abbiamo sentito molto la sua mancanza perché se lei fosse stata ancora direttore dell'Izitest, per esempio, noi saremmo venuti a chiedere le informazioni sul coronavirus. Io non è che sono morto però. Eh lo so, non ci siamo permessi di venirla a disturbo. Nonostante sia un anziano. Vivo, vegeto e vaccinato però. Ah sì, anche vaccinato. Grazie a Dio sì. Allora io a questo punto, dopo questa risposta, sono indecisa se chiederle prima, essendo io un'italiana media spaventata dal coronavirus, alcune informazioni sul coronavirus, o se chiederle prima della sua vita, che è molto forse più interessante, di quello che ha fatto il suo papà per questo territorio, soprattutto per l'Istituto Zooprofilattico. Però Giacchemi ci ha portato sul campo minato. No, veramente, lei ha portato a me, se vogliamo proprio essere un po' precisi. Precisi, ha ragione, ha ragione. Va bene pure. E noi ci stiamo spaventando troppo per questo coronavirus, oppure no? Che vuol dire noi? Noi, la popolazione mondiale italiana, visto che siamo in Italia, insomma, parliamo di noi italiani, anche nei numeri, nelle nostre percentuali. Io pensavo a noi, pensavo a voi giovani rispetto a noi vecchi. Beh, io tanto giovane, 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 no. Quanto basta? A meno di 60 anni? Sì. Allora, se lei ha meno di 60 anni, ritengo che non ci sia un motivo reale per cui lei sia preoccupata per se stessa, naturalmente. Però mi diceva appunto che ha degli anziani a casa, credo che se ha degli anziani a casa, che però adesso dovrebbero essere vaccinati, e quindi non deve più neanche preoccuparsi di loro, perché ritengo che con la vaccinazione i livelli di rischio per questo tipo di infezione, ma soprattutto per le conseguenze dell'infezione, siano pressoché irrilevanti. I numeri, i nostri numeri sul coronavirus, che cosa ci dicono? È stato giusto chiudere una nazione, è successo a livello mondiale, però parliamo dell'Italia perché noi abbiamo delle statistiche che sono anche diverse rispetto ad altri paesi, no? È giusto quello che è successo secondo lei oppure no? Lei l'avrebbe gestita diversamente? Ah beh, io sicuramente sì. Su questo non ho dubbi. Questo è stato, secondo me, io lo dico con grande convincimento. Io credo che questa epidemia, che peraltro non è più un'epidemia, questo deve essere chiaro, l'epidemia è finita sostanzialmente con l'anno, diciamo così, con l'autunno-inverno dell'anno passato. Fino a novembre? Sì, certo. Potevamo definire l'epidemia? Sì, sì, l'epidemia. Dopodiché non è più un'epidemia. Allora, perché bisogna capire cosa è un'epidemia. Non voglio diventare didattico, didascarico. Eh sì, però noi visto che siamo spaventati tutti dal coronavirus, lei ci può aiutare ad uscire dalla paura. Quando ti definisci un'epidemia, quando una qualunque agente di malattia, infettivo o non infettivo, causa un numero di casi che è superiore a quello che ci si attende. E allora abbiamo un'epidemia. Quindi anche un solo caso, paradossalmente, può essere un'epidemia se tu ti attendi zero. Nel momento in cui però i casi si stabilizzano e più o meno sono sempre quelli che tu ti attendi, non si parla più di una situazione epidemica, ma si parla di una situazione endemica. Quello che è importante è capire che le due cose vanno gestite in modo assolutamente diverso. Questo paese non l'ha fatto ed è uno dei suoi grandi errori. Ma perché ci è sfuggita di mano la situazione o perché proprio non è quello il modo, il metodo per gestire un'emergenza come quella del coronavirus? Di questo coronavirus, perché i coronavirus, voi scienziatici, avete sempre detto, soprattutto chi si occupa di animali, che i coronavirus esistono da sempre, gli animali praticamente vivono col coronavirus. Il coronavirus ce ne sono tanti, per tante specie animali di cui l'uomo fa parte. Vede, uno dei grossi problemi è che l'uomo, in ragione peraltro di, anche ragionevolmente diciamo così, è sempre ritenuto una sorta di affare che non c'ha niente a che fare con gli animali. L'uomo è un mammifero e con gli altri mammiferi condivide una serie di cose, fra le quali le malattie. E quindi, questa è una cosa che è nota dai secoli, ci voglio dire, la peste è una di quelle infezioni, tanto per parlare di una cosa storicamente conosciuta, che è condivisa dall'uomo e dal topo. E quindi da sempre è così. Quindi non c'è da meravigliarsi di questo fatto. Se lei mi dice, guardi, diciamoci francamente come sono le cose. Questo è un paese che ai veterinari non sarebbe successo quello che è successo, quello che hanno combinato i medici. Cioè, se fossero stati i veterinari a dover gestire la situazione non avrebbero fatto le stesse scelte dei medici? No, no, avrebbero fatto, umilmente lo dico, davvero, sicuramente meglio. E lo hanno dimostrato, perché noi di epidemie derivate da infezioni esogene, cioè provenienti da paesi che non erano il nostro, ne abbiamo gestite tante, tra cui uno molto simile al Covid, che era una malattia che colpiva i bovini. Però, lasciamo stare questo, hanno fatto veramente, hanno sbagliato tutto lo sbagliabile. Questa è un'infezione che chiaramente, quando è stata riconosciuta, era già presente in Italia, credo, perlomeno da due o tre mesi. Ed è grave che una infezione come questa non sia stata riconosciuta prima. Perché? Perché si sapeva che era in corso un'epidemia in Cina. Si sapeva che tutte le grandi epidemie di solito nascono in Oriente, per un motivo semplice, perché c'è la stragrande maggioranza della popolazione mondiale. E quindi le probabilità dicono questo. E si sapeva altrettanto che a partire dagli anni 2000, con la cosiddetta globalizzazione, si sono avute delle conseguenze, tra le quali c'è stata la incredibile accelerazione dei movimenti, sia sul piano dei numeri, sia sul piano proprio della velocità, degli spostamenti a livello globale. E quindi quando un'epidemia sorge in una determinata area del mondo, bisogna stare sempre allerta, perché ci sono ottime probabilità che almeno un infetto arrivi nel tuo paese. Questi gentlemen, si dice così, adesso voi amate l'inglese, io no, invece si sono fatti trovare, come si dice classicamente, con i pantaloni completamente abbassati. E hanno preso paura, perché quando se ne hanno capito di avere a che fare con quell'infezione, e quindi con grave ritardo rispetto a quello che avrebbero dovuto fare, ebbè hanno preso paura perché hanno avuto improvvisamente un numero incredibile di casi che drammaticamente dovevano gestire e hanno creato, è successo il macello che è successo. Ma perché con la SARS non è successo tutto questo? Eppure tra l'altro era, mi corregga se sbaglio, anche più pericolosa, più... Beh, io non... Da un punto di vista della mortalità? Ma vede, io voglio dire, attenzione, la SARS in realtà si è bloccata. Se uno va a capire perché questo è accaduto non è affatto chiaro. Si poteva bloccare anche questo coronavirus? Anche il Covid-19? No, non aveva le caratteristiche. Ma vede, dipende che vuol dire bloccare. Io non so, secondo lei, ma le faccio una domanda, mi perdoni. Oddio, adesso io sono imbarazzata, perché non saprò sicuramente rispondere a lei, professore. No, no, non ci mancherebbe, ci mancherebbe, ma no, le faccio un esempio. Lei, due domande le voglio fare, le faccio due domande, ma così sono puramente retoriche, devo dire. Bene, spero. Secondo lei, ha sentito, parla lei giovane, quindi lei sicuramente nel 68 non era nata. Per un pelo non ero nata. Per un pelo non era nata. No. Io sì, abbondantemente. Beh, nel 68 l'Italia fu, il mondo fu colpito da un nuovo virus dell'influenza e che fece globalmente gli stessi morti, lo stesso numero di morti che ha fatto fino adesso il Covid. Ma nel 68 nessuno ha manco lontanamente sognato di fare l'inferno che è stato fatto adesso. Nonostante che quella fosse un'infezione che colpiva tutte le classi di età, nonostante che quella fosse un'infezione che colpiva i giovani come gli anziani, al contrario del Covid. Il Covid, diciamoci francamente, se uno va a verificare quello che è successo, si accorge che il 90, mi pare il 95% delle persone che sfortunatamente sono morte, avevano più di 60 anni. Cioè in fondo è una malattia che deve fare paura a me, come ne scherzavo prima, sicuramente non deve far paura a lei. Come malattia. Ecco, questa è la realtà dei fatti. Quindi la domanda che uno si deve porre è perché hanno reagito in questo modo? Quando, come dire, le epidemie ci sono sempre state, la mortalità... Però in tutto il mondo poi abbiamo reagito in questo modo. Perché? Perché se l'aveste fatto una nazione piuttosto che un'altra... A me piace questa cosa, sa perché? Tutti, il mondo intero. Perché questo è il famoso discorso, come dire, se stiamo male tutti, stiamo più male. Eccoci. Fra l'altro, vede, lei si è resa conto che l'Italia ha assunto lo strumento di gestione dell'epidemia di un paese comunista liberticida, che è la Cina? No, ve ne siete resi conto di questo? Sì, credo che, insomma, più o meno sì. Sì? Anche se le regole della Cina ci dicono essere state decisamente più rigide. Insomma, la popolazione cinese è più abituata al rigore, proprio perché c'è un regime. Eh, però noi abbiamo importato il loro sistema. Sì, credo di sì. Lei si è resa conto che un paese che ha fondato l'intero sistema sanitario sulla medicina di base, con i cosiddetti medici di famiglia, il nostro sistema è fondato su quello, ed è dimostrato che il Covid si diffonde soprattutto all'interno dei nuclei familiari, che è una cosa che si capiva a giorno zero. Perché ricordiamo un po' come si diffonde, ma ce lo dica, chiare tondo, perché noi anche torniamo sempre alla paura, perché lei stiamo facendo un discorso prima di iniziare questa trasmissione, che molto di quello che sta succedendo è legato alla paura che abbiamo tutti del Covid, o la paura che c'è stata… Sì, che è stata istillata ad arte, per questo deve essere chiaro. Le dicevo prima, questa… Dunque, come si… Tutto cominciò con la mucca pazza. Il contagio da coronavirus, come avviene, chi rischia? Il contagio da coronavirus, come tutte le infezioni virali respiratorie, soprattutto prevalentemente respiratorie, si trasmette attraverso, ormai lo sanno tutti, questi, attraverso le goccioline di vapore, se vuole, che notoriamente, basta mettere, se qualcuno osserve il suo telefonino si accorgerà tutte le volte che c'è stata tutta una serie di puntini, quelli sono sostanzialmente le goccioline di saliva, altrimenti i detti sputazzi, che emettiamo noi quando parliamo, quando respiriamo e via di questo passo. I virus non volano, sono assolutamente non dotati di ali e si trasmettono solo ed esclusivamente attraverso meccanismi passivi sul piano, diciamo così, del movimento. Mi si consenta questa cosa. Quindi, posso trasmettere sempre attraverso una zanzara, ma nella fattispecie, con le cellule che vengono di sfaldamento, che vengono emesse attraverso la respirazione, piuttosto che attraverso la tosse, gli stannuti e così via. E ovviamente, siccome sono particelle fisiche, quindi non sono elementi eterei, sono fatti fisici, non li vediamo, lei come sa esiste una cosa che si chiama forza di gravità, la quale tende irrimediabilmente ad attrarre. Ecco perché le distanze, allora è una precauzione giusta quella della distanza sicura, le mascherine in certe situazioni le sono. Assolutamente sì, perché non è che tu devi fermare il virus, che non si fermerebbe mai davanti alla mascherina, tu devi fermare le cellule che sono emesse insieme alle goccioline che tu emetti con la respirazione. Quindi basta in effetti avere una mascherina e tenersi a una distanza ragionevole, ma soprattutto io vorrei che fosse chiaro, c'è una cosa che si chiama carica infettante, cioè non è che se escono due particelle di virus e lei viene colpita, automaticamente si infetta. Noi abbiamo tutta una serie di meccanismi che impediscono ciò. Per potersi infettare bisogna che tu sia investita da una quantità relativamente elevata di virus che deve essere emessa e che normalmente, e credo sia dimostrato scientificamente anche con questo virus, viene emessa quando c'è qualcuno con un'infezione acuta che è in grado di emettere quantità notevole di virus. Quindi come vede le probabilità sono relativamente modeste. A meno che non si vive nella stessa casa, si baci, abbracci, poi i contatti stretti fisici sono un'altra... Credo, credo, le probabilità sono più alte. Io le dico la verità, io leggo semplicemente un po' di roba scientifica sul piano internazionale di quello che viene pubblicato, viene pubblicato anche un sacco di robaccia, perché attualmente c'è questa tendenza a pubblicare tutto quello che si può, a volte anche della robaccia. Però, al di là di quello, credo che sia ormai abbastanza chiaro, ma una cosa che, ripeto, sono tutte cose che si sapevano a priori, o per meglio dire. Sa, noi viviamo... La vita della scienza è una vita probabilistica e quindi si ragiona in termini di probabilità. E allora tu in termini di probabilità lo sapevi da prima che questa sarebbe stata un'infezione che sarebbe stata nei nuclei familiari. Lo sapevi da prima che un'infezione che colpiva l'apparato polmonare era un'infezione che sarebbe stata particolarmente dannosa per le persone anziane. Lo sapevi da prima che questa infezione non l'avresti mai potuta fermare facendo tamponi idioti a masse di popolazione in modo assolutamente inutile. Sono tutte cose che, in termini probabilistici, lo sapevi da prima e poi inevitabilmente è accaduto quello che era ovvio che sarebbe accaduto. Allora, io lo sapevo che l'avrei portata anche per una mia paura personale su questo terreno, però adesso le faccio l'ultima domanda, anche per dare l'informazione corretta, sui vaccini. Perché è evidente, secondo me, già adesso, vista l'ospedalizzazione eccetera eccetera, che i vaccini se non altro riducono... Non funzionano? No, funzionano. Io ci credo. Io credo nella scienza. È inutile che faccia a lei questa domanda perché insomma uno scienziato mi deve rispondere che me lo chiedi a fare, no? Allora... Ci dobbiamo vaccinare. Ci dovremmo vaccinare. Allora... Sarebbe opportuno vaccinare. Io ho sempre paura a fare... Mi faccia domanda, lei si è vaccinata. Io sono... No, lei non può dire trascinare la mia paura. Io sono paura. Io a volte, giuro, la conosco da tantissimi anni, ho sempre avuto il terrore di intervistarla perché lei è un campo minato dove il giornalista si può scrociare. Ah, perfetto. No, ma non è vero. Ma guardi, poi con l'età sono molto migliorato. E' migliorato, è vero. Devo ammettere che è migliorato. Era più crudele quando era... Allora, io premetto, mi sono vaccinato e la cosa straordinaria è che quando sono andato a vaccinare ho dovuto convincere una signora anziana dentro all'affare dove vaccinavano... Che lei ne aveva il diritto. No, che si doveva vaccinare, che era consigliabile che si vaccinasse. Allora, diciamoci come stanno le cose. I vaccini, come tutti gli altri farmaci, non sono a rischio zero. Il rischio zero non esiste. Ma la vita non è a rischio zero. Il rischio zero non esiste. Allora, semplice, no? Perché mai dovrebbe esistere per i vaccini. Non esiste per i farmaci. Io ho sentito tutta una serie di duzzurelloni che si sono divertiti a parlare, non mi ricordo nemmeno, di quale fosse questo vaccino che dava le trombosi. L'AstraZeneca che è diventato... Ma lei, allora io non posso farle questa domanda e mi astengo, ma lei conoscerà qualche donna che prende la pillola, vero? Sì, assolutamente sì. Lei sa naturalmente che aumenta il rischio di trombosi con la pillola. Lo so che me l'ha detto di recente un medico di famiglia, tra l'altro, parlando proprio di questi argomenti, se forse Dorotea non sai che la pillola ha molti più rischi della vaccina AstraZeneca. Sì, però i rischi derivanti di trombosi con la pillola sono infinitamente minori dei rischi che si corrono ad avere gravidanze non volute. Va bene? Perfetto. Quando si usa un vaccino, il vaccino non è mai innocuo al 100%, dove il 100% indica il 100% delle persone che vengono inoculate. Il problema è che riduce in modo assolutamente drammatico i rischi derivanti dall'infezione da cui ci si protegge con la vaccinazione. Insomma, se ti vaccini il rischio che ti faccia male è infinitamente inferiore al rischio che corri se non ti vaccini. Quindi, questi vaccini sono... La domanda che bisogna porsi mi consenta perché ci tengo a questo. Prego. È perché mai al mondo hanno aspettato qualcosa come oltre un anno per iniziare a vaccinare persone. Però ci hanno fatto credere, anzi addirittura ci hanno detto che è stato un miracolo riuscire a trovare un vaccino rispetto al passato in così breve tempo. Ah sì, ecco. Questo è quello che dicono. Beh, vede, il fatto è che è vero, se si fanno i vaccini che hanno fatto e che si stanno facendo e che funzionano, che però sono dei vaccini cosiddetti brevettabili, perché sono derivati da manipolazioni genetiche della gente virale. E sono brevettabili, cosa questa che consente un valore aggiunto per il produttore che è infinitamente superiore a quello che essi potevano invece avere utilizzando i cosiddetti vaccini tipo tradizionale, le faccio un esempio per capire di che sto parlando. Sto parlando per esempio del vaccino Solk contro la poliomelite, sto parlando dei vaccini dell'influenza che sono stati usati per 50 anni circa nel mondo, e vengono ancora usati nel mondo, cioè quei vaccini per cui si prende il virus, lo si coltiva, lo si riproduce, poi lo si inattiva e poi lo si inocula. Lo potevamo fare molto prima, utilizzando un vaccino mi permetta questo termine, generico? Lo chiamiamo tradizionale, senza marchio, non brevettabile, io ritengo che questa sia stata veramente una cosa molto grave, francamente sì, perché per capire i cinesi lo hanno fatto però, cioè i vaccini cinesi sono stati all'inizio soprattutto questi, quelli che loro hanno distribuito in giro per il mondo, io mi ricordo ancora adesso parlando con un signore che mi diceva veramente ho parlato con Tizio Caio che io conosco, che sta negli Emirati e mi diceva guarda che negli Emirati sono tutti vaccinati perché i cinesi gli hanno regalato il vaccino, ora gli Emirati non è esattamente gente che non aveva il denaro per vaccinarsi, però hanno usato i vaccini tradizionali. Si sono affidati, noi non l'avremmo mai fatto, in Italia sarebbe successa la rivoluzione, perché l'Europa è diventata asservita alle multinazionali del farma, questo lo dico senza, io l'ho vissuta queste cose per i farmaci veterinari, quindi credo di sapere quello di cui parlo, Allora, a proposito di farmaci veterinari, ritorniamo all'origine, ovvero al professor, intanto noi siamo in una zona di Teramo che è un po' nascosta ma è bellissima, alle nostre spalle non si vede ma c'è l'istituto zooprofilattico, questo è detta la teramana maniera Camp Sandvik, esattamente dove siamo seduti io e il professore, c'erano le tombe, Sì, quando ero piccolo io ci stavo. Ma abbiamo scelto questo luogo, a parte l'istituto, perché il professore qui ci è vissuto, cioè il professore è vissuto dentro l'istituto. Beh, vedemi, sì, negli anni, in quegli anni, negli anni 40, i funzionari pubblici avevano gli appartamenti di servizio, non tutti, ma insomma, il prefetto ancora ce l'ha, credo. Sì. E quindi mio papà aveva l'appartamento dentro la sede fisica dell'istituto zooprofilattico. Io ci sono entrato, che avevo tre anni, precedentemente vivevamo a via, dietro le poste, non mi ricordo nemmeno come si chiama. Via Paladini? Via Paladini, bravo, dietro le poste. Siamo vissuti là, nel frattempo che mio padre costruiva questa cosa, e dopodiché io sono cresciuto qui. Tutti i ricordi della mia infanzia, e sono vissuto qui fino a 20 anni, cioè, quando ho finito l'università e poi sono andato in giro per il mondo. Poi è tornato qui però, in altra veste. No, io per la verità ci sono tornato, io da direttore, questo è stato il mio secondo ritorno a terra. Prima sono stato qui, poi sono andato in giro per il mondo a studiare, cinque anni più o meno, sono tornato qui come dipendente dell'istituto, e poi a causa di una gestione politica vergognosa dell'istituto, da bulli politici, sono andato via e sono diventato professore all'Università di Bologna di malattie infettive. Io ho insegnato complessivamente, 18 anni, malattie infettive all'Università di Bologna. Poi nel 1989 il professor Gramenzi, che era il povero direttore bravo, persona degna e brava, ha bullizzato questa politica indegna, purtroppo si ammalò e le dico francamente non so nemmeno come, pensarono di richiamarmi e io rientrai all'istituto, non ero più dipendente. Rientrai all'istituto e prima feci direttore facente funzione un anno, il professor Gramenzi poi non stava bene, quindi andò in pensione anticipata e mi fece il concorso, io ho vinto e sono diventato direttore. Ci tengo al fatto che sono un direttore, io non sono mai stato un direttore generale, la cosa mi offende, perché il direttore generale è una cosa che viene nominata politicamente, a volte addirittura come il caso recente dell'ultimo direttore di Teramo, li nominano anche senza che essi abbiano i requisiti che la legge prescrive. Ma su questo ci sono stati anche degli scontri. Ma una cosa indegna e vergognosa. Però evidentemente si può fare. No, non si può fare. Non si potrebbe fare. No, vede, io mi diverto sempre, perché io sono stato perseguitato dalla magistratura teramana per dieci anni, dieci anni. Noi conosciamo bene la sua storia. Sì, cinque, sei processi, dieci anni, poi alla fine ho scoperto che non aveva successo niente. E non mi hanno chiesto nemmeno scusa dall'istituto zooprofilattico, questa è una cosa che mi offende molto, te ne dico la verità, perché io ho subito questa serie di processi a causa di esposti, perché troppo vili per fare le denunce, da esposti che sono tutti venuti dall'interno dell'istituto. Quindi questi soggetti sono stati loro che hanno fatto esposti su cose, siccome hanno fatto esposti nei miei confronti, nei confronti di mia moglie. La cosa carina, sa qual è? Che un magistrato neutrale, a cui avevano mandato gli atti per mia moglie, nella sentenza ha scritto che quello di cui veniva accusata mia moglie, che era anche una parte di quelle che accusavano, le cose che hanno accusato me, non potevano essere state commesse, perché i controlli amministrativi dell'istituto erano tali che non consentivano di fare queste cose. Gli stessi soggetti che dovevano fare quei controlli sono quelli che hanno fatto gli esposti. Quello che mi offende non è il fatto che la magistratura mi ha perseguitato per dieci anni, perché questo è normale, cioè in Italia questa era l'indegna, vergognosa durata degli iter giudiziari. Mi ha offeso che l'istituto non abbia sentito il dovere di scusarsi per quello che ha fatto a mia moglie, a me. Questo mi ha offeso, mi offende ancora. Non porto rancore perché sono gente da quattro soldi e il rancore si porta a gente che è degna di rancore, però dà anche la misura di che personaggi sono. Lei è stato, poco fa le dicevo, le confessavo, che anche per, almeno parlo per la sottoscritta, intervistare il professor Caporale è sempre un'impresa, perché intanto è una persona che non ha peli sulla lingua. Intanto, se chi ci capita, magari è pur un po' impreparato, fa delle figure mondiali anche in diretta, per cui sempre con i piedi di biondo. Questa è registrata però stavolta. Questa è registrata, sì, non sono tanto fessa da fare un'intervista in diretta al professor Caporale, però vi garantisco che non taglierei mai nulla, soprattutto se a fare la brutta figura e la sottoscritta. Ovviamente l'ospite lo tuteliamo in tutto e per tutti. Però lei è sempre stato, proprio perché senza peli sulla lingua, un personaggio scomodo. Lei è sempre stato definito antipatico. Allora, le hanno riconosciuto, questo lei lo sa e lo sappiamo tutti, la professionalità, la preparazione. Lei veramente è uno scienziato di livello, sulla sua materia ha guidato l'Istituto Zooprofilattico a livelli internazionali. Però, umanamente, le hanno sempre detto che era antipatico, che era arrogante, che era presuntuoso. Lei ha questa caratteristica di persona senza peli sulla lingua e a molti. Non piaceva, continua a non piacere. Ma ora lei mi vuole mettere sulla difensiva. Io le dico quello che lei lo sa, non glielo sto dicendo io. Guardi, allora, vorrei... Non le ha mandate mai a dire a nessuno. Allora, scendiamo un momento il problema. Cominciamo dalla questione arroganza. Allora, lei deve sapere che il mio papà aveva la seguente visione del mondo, che era una visione di carattere socratico, sostanzialmente. E lui riteneva che il male fosse l'ignoranza e il bene fosse la conoscenza. Non è una idea originale, ci mancherebbe. Come è noto, è attribuita originariamente a Socrate. Dovrebbe essere comunque così. E porca miseria, no? Non è. No, per esempio oggi viviamo un'era nel nostro paese in cui l'ignoranza è diventato un merito. Attenzione. Uno vale uno è la traduzione della ignoranza è uguale merito. Se no, perché uno dovrebbe valere uno? Perché uno vale uno nel momento in cui andiamo a votare, visto che viviamo in una democrazia... Abbiamo tutti gli stessi diventi. E quindi abbiamo tutti... Bene, ma quando invece si tratta di tutto il resto, uno non vale mai uno. Mai. E soprattutto laddove c'è bisogno di conoscenza. Perché lì invece uno vale sì quanto conosce. Chiaro? Io sono stato educato così. E il mio papà, quando io ero piccolo, e osavo dire questa cosa la so, papà mi guardava dal bar, non era molto alto, però mi guardava, e io così, e quello mi recitava. Perché tanta arroganza nella puzzola meschina? Cosa vuoi? E l'ignoranza? Dice Gigi a Pampolina. Quindi per me l'arroganza è legata all'ignoranza. Mi offende che mi si dica arrogante, perché è come dire ignorante. E lui mi dice, ma perché è arrogante? Allora le dico quello che io dissi a un direttore generale del Ministero della Salute, il quale mi aveva fatto questo ragionamento. Dice, ma tu perché tratti male la gente? Io ho detto scusa. Dico a tu, uscivamo da una riunione. Io ho detto, guarda, io sono stato educato secondo questi principi. e dopo che mi sono laureato, io mi sono laureato, non ero maggiorenne, allora la maggiorità era ventun'anni. E io mi sono laureato che non ero maggiorenne. Va bene? Poi per cinque anni, diconsi cinque dopo la laurea, sono andati in giro per il mondo a studiare. Va bene? Quindi per me il sapere le cose non è il frutto di scienza infusa è il frutto di una fatica veramente grande. Io ho vissuto cose, ho vissuto la Svizzera degli anni Sessanta quando anche se tu eri un laureato come ero io ti trattavano come il film di Manfredi. Pane e cioccolata, presente? Bene, così ti trattavano. Ho vissuto l'Inghilterra dell'arroganza e dell'ipocesia inglese. Ho vissuto gli Stati Uniti dove per poter vivere io lavoravo, lavoravo e studiavo. Allora, detto questo, gli ho detto guarda, hai visto l'Arbignone? Hai presente quello che tu stai dicendo che io ho maltrattato? Sì. Dico, ti sei accorto che quello pretendeva di parlare con me immaginando di poter discutere con me allo stesso livello? È vero? Dice, va bene, ma quello è un poveretto. No, poveretto. Forse non ci stiamo capendo. Quando lui a me faceva questo mi stava colpendo in un modo inaudito. Perché mi stava dicendo che tutta la fatica che ho fatto io a studiare, a prepararmi, ad andare in giro per il mondo, a bagnare, come dire, le cose poco piacevoli dagli svizzeri, che per me è il massimo, voglio dire, è stato inutile. perché lui nella sua ignoranza può parlare con me allo stesso livello. Allora, se permetti, siccome non gli posso spiegare le cose perché è troppo stupido per capire e non ha gli strumenti per capire, pertanto alla fine è un maltratto. Credo che molti di quelli che mi dicono arroganti in questa città sono esattamente in quelle condizioni. Non lo dico con presunzione. Se io fossi stato un uomo presuntoso per davvero, credo che la mia vita forse sarebbe stata diversa. Non mi pare, a cominciare da questa grande città, di essere stato in alcun modo favorito. Quello che ho fatto io, io l'ho fatto contro la città di Teramo. Questo deve essere chiaro. Come mio padre ha fatto contro la città di Teramo le cose che ha fatto. Perché suo padre non fu trattato molto bene quando propose di ampliare l'istituto. Lei, quando le stavo raccontando la storia di mio padre, pensava che le stesse raccontando la mia storia. Infatti io le ho detto. Sì, che le ho detto io. Caratterialmente, evidentemente, lei e suo padre... Mio padre è stato... Mio padre fu chiamato... Mio padre lavorava a Torino, dove io sono nato. Dico sempre, io non ho... Scusi, le chiedo, voi siete Teramani di origine? E il suo papà? Io non ho nulla di Teramano. Suo padre è Umbra, mi ha detto. Mio padre è Umbro. Ah, anche suo padre. Poi noi apparteniamo alla stirpe frentana della gente sannita. Gente particolarmente cattiva. Tanto per essere pieno. Io sono nato a Torino. Io non ho nulla di Teramo. A Teramo io debo solo un'infanzia felice. A Cambusandevicchia. Ero l'unico ragazzo che ci avesse le scarpe sette giorni su sette. Ero solo io. Perché molti non le avevano le scarpe allora. La maggior parte li usava solo la domenica. Ed era una cosa che mi dispiaceva moltissimo. Perché non potevano da scalza perché a me facevano mani i piedi. Loro ci andavano. Erano abituati. Certo. Allora, questo era un quartiere poverissimo. Lei lo sa, questo era il quartiere dei carrettieri che andavano a prendere il quartiere dei macellai del mattatoio comunale. Ma ho vissuto un'infanzia bellissima con bambini con cui ho giocato fuori dagli ambienti piccolo-borghesi del centro. e in questo straordinario quartiere io ci sono cresciuto e devo questa infanzia felice, devo un liceo classico con grandi professori, scuole elementari con una grande maestra e scuole medie con dei grandi insegnanti. Appartenevo alla borghesia teramana che in quegli anni, ma certamente non eravamo unici, godeva della sezione A, tranne che il ginnazio dove mi misero la sezione C perché la sezione A c'era famosa, lei non lo sa, ma c'era una famosa professoressa grico e io mi rifiutai nettamente di andare alla e ebbi uno straordinario professore, grande uomo e grande professore, grande insegnante che è stato il professor Lombardo e questo lo devo a Teramo e gli sono estremamente grato. Ci ho detto e mio padre era un frentano, lavorava a Torino, lo chiamarono a quel tempo era usuale che i direttori venissero fatti per chiamata, lo chiamarono a Teramo. Teramo aveva un istituto sorfiliatico fondato nel 1941 che consisteva in due stanze a via dei Mille, tre dipendenti e una balilla. Mio padre dopo un po' di tempo che stava qui disse ma guardate che un istituto sorfiliatico non può essere due stanze e prospettò la costruzione di questo istituto che poi è la sede che sta qui dietro come diceva lei. Gli fu detto che lui era un matto usarono guardi le garantisco usano le stesse parole che hanno usato per me che era un megalomane che voleva fare una struttura faraonica. Mio padre per fortuna conosceva lui era era iscritto al partito socialista e conosceva un altro socialista ma non attraverso il partito che era l'alto commissario della sanità e igiene pubblica che al tempo non c'era il ministero e stava l'equivalente del ministro che era una burzese Atriano no era pennese era pennese era un medico psicanalista piuttosto noto si chiamava Perotti e mio padre allora andò da Perotti e Perotti finanziò la costruzione della sede quindi mio padre benissimo finanziò la costruzione di questa opera faraonica che è l'istituto sul filantico qui e nel 49 la sede fu completata mio padre c'era stata nel frattempo l'elezione del 48 e mio padre socialista aveva aderito a fronte popolare Teramo da sempre come tutti gli centri piccolo borghesi democristiana fino al midollo non gli parve vero ai maggiorenti appena ebbero la nuova sede nonostante che mio padre era stato chiamato a fare direttore decisero che a questo punto bisognava mettere a concorso il posto da direttore anche perché lo fece perché mio padre aveva a quel punto 33 anni quindi erano convinti che veniva che sicuramente veniva altra gente con più titoli con maggiore anzianità e quindi mio padre non aveva nessuna speranza di vincere il concorso salvo che mio padre appunto per la famosa questione che fondava la sua vita sulla conoscenza era sufficientemente preparato da vincere il concorso senza discussioni e quindi mio padre di fatto diventò direttore dell'istituto sforofilattico e Teramo per meriti e Teramo ebbe la sede di Sforofilattico entrambe le cose contro la città di Teramo carino no? e lei è tornato a riprendere la tradizione di famiglia poi quando è venuta a fare il direttore ma vede Dorotea vogliamo ricordare a chi è intitolato l'istituto a Giuseppe Caporare che è mia padre che è una cosa che è un po' mi secca date le vicende vicende dell'istituto ma lasciamo stare vede Dorotea il fatto è che questa cosa lei non pensi che io mi sento minimamente offeso le ho detto perché mi sento offeso quello si e sono offeso davvero invece non mi offende questa cosa io le dicevo prima io nella mia generazione io ho visto gente teramana questa volta ma proprio bravi che di fatto sono dovuti andare via da Teramo le citavo Renato Galzio le citavo il bravo cardiochirurgo Deusani le ho citato il mio grande amico Walter Mazzitti che è stato cacciato dalla presidenza del parco nazionale e le raccontavo l'aneddoto in cui lei mi ha aiutato prima come si chiamava quello di Roseto che mi scordo sempre il nome vogliamo fare nomi e cognomi sì sì assolutamente sì Tommaso Ginobili Tommaso Ginobili Tommaso Ginobili e quella avvocatessa che hanno che indebitamente hanno messo a fare il presidente di Soso Rofilatti però è rimasta presidente per diverso tempo perché gli sciocchi Teramà gli sciocchi hanno fatto un ricorso per le ragioni sbagliate vede non si può fare il membro del consiglio di amministrazione dell'istituto Zoro Rofilattico come è stato dimostrato recentemente peraltro la sentenza del TAR per quel signore quell'avvocato di Atri mi pare per la direzione in quel caso no per la presidenza sempre sì sì non è stato hanno fatto ricorso al TAR e ovviamente non poteva essere membro del consiglio di amministrazione perché per essere membro del consiglio di amministrazione bisogna essere esperti di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare credo che l'avvocatessa di che trattasi francamente poi lo ha dimostrato a chi ne sapesse che proprio non ci capisce nulla quindi voglio dire questa situazione di fra l'altro di indebita allora questa signora insieme a Ginobili io ero presente ristorante Duomo quindi luoghi persone avevano c'era a Teramo l'ottimo Marini che allora era segretario Franco Marini sì uno dei tanti partitucoli che hanno rifondato i democristiani comunisti hanno rifondato parti si vergognavano di se stessi giustamente credo la Margherita fosse a quel tempo è uno dei passaggi una delle evoluzioni della democrazia cristiana perfetto a tavola questi due ma soprattutto questa avvocatessa a Marini dice noi dobbiamo cacciare ma zitti dalla presidenza del parco e Marini dice scusa ma perché lui giustamente venne da San Pio delle Camere in mezzo al parco nazionale dice i miei mi ricordano ancora adesso ma i miei mi dicono che sta facendo così bene sta facendo un lavoro eccellente fa questa avvocatessa un grande ma è un problema politico ecco questa ti dà la misura di come questa città e la sua politica miserabile tratta tutti coloro che sono capaci di dare dei contributi a terra ma indipendentemente quindi non sono non è un fatto personale poi ti raccontano che sono anche fatti per specchiare ma ti pare normale dicendo la teramana ti pare normale che il problema si è stendipatico si è simbatico ma può essere però molto spesso nella vita è un fattore determinante e dica come era Renato Galzio come è considerato Renato Galzio un matto anche lui bravo e Deusanio meno antipatico il professor Deusanio però anche lui con caratteristiche umaniche ma zitti antipatico bravo io li ho conosciuti tutti allora il miglior neurochirurgico possibile dopo l'ottimo Carbonini che peraltro è stato il suo maestro Deusanio è quello che di fatto ha fatto la cardiochirurgia a Teramo fra l'altro quando io facevo l'amministratore dell'Astro Mazzitti che ha oltre tutto quello che ha portato in termini culturali ma soprattutto quello che ha fatto di veramente straordinario sul parco nazionale pubblicava una rivista bellissima distrutto da quegli inetti che hanno seguito a quella presidenza inetti relativamente parlo e sia chiaro ma la differenza è no? abissale tutta gente a Teramo a Antipa perché? ma perché uno non si pone il problema di come mai succede questo? perché non ci si pone il problema per capire perché i figli migliori non mi ci metto io perché ho detto Teramo in c'entri l'indra perché i figli migliori di Teramo vanno via? se ne è mai posto qualcuno il problema? c'è qualcuno che si sta ponendo oggi sopra non parlo per il passato parlo per oggi e per il futuro di Teramo che non mi riguarda intanto per età però lei vive a Teramo questo è un altro pari da marca ma poi spiegherò anche perché non si preoccupi allora voglio dire perché i giovani migliori di Teramo mi risulta stanno andando via e se una volta l'immigrazione era l'immigrazione dei cafoni che andavano nelle minili del Belgio adesso la migrazione è dei laureati è dei giovani più bravi di quella che dovrebbe essere la futura classe dirigente e questo non può che avere un solo esito che è già peraltro palese e cioè il ritorno verso quello da cui siamo usciti all'inizio degli anni Ottanta e cioè del meridione profondo lei vede questo è il quadro che lei vede che dipinge se i giovani migliori che devono apprezzare la classe dirigente vanno via come stanno andando via perché questo mi dicono io conosco non è che conosco un mondo ma ogni volta che dico dove sta tuo figlio cioè mio figlio sta a Milano mio figlio quindi evidentemente stanno andando via e allora restano tutte quelle mezze calzette come è successo per esempio negli anni Ottanta e lì è cominciato il problema e quindi inevitabilmente se non hai una classe dirigente brava non c'è niente da fare non c'è futuro soprattutto in un mondo come quello attuale dove si compete solo ed esclusivamente in due modi lavoro a basso costo e non credo che sia esattamente quello a cui la gente aspira o sul piano della conoscenza e delle competenze se tu non sei capace di produrre conoscenza il futuro è un futuro da paese in via di sviluppo mi dica lei se Teramo le pare un posto dove si produce conoscenza lei lo capisce perché è antipatico no? la maggior parte della gente sì nel senso vede io sono antipatico ma io le dico questo perché è come la storia io la provoco anche però lei come l'ho lasciata l'ultima volta che l'ho vista la ritrovo il professor Caporale è così e non cambierà mai ovviamente questo è vero ma perché le cose che le sto dicendo sono antipatico scusi no non a me cioè non a lei ma io quello che sto dicendo adesso immagino che quei imbecilli che hanno fatto sì che Galzio se ne sia andato ripetiamo le ultime cose che dicevamo che hanno fatto questo l'ottimo Deusanio non so pur l'ufiglio come si dice pur l'ufiglio cioè voglio dire che era venuto di recente tra l'altro a dirigere sì oppure il cardiologo quello per l'amore di Dio è andato a Pavia no un grande immagino che l'avrà fatto anche per una questione di carriera giustamente oppure quello che hanno fatto a Mazzetti ma mi scusi certo quella gente considera pure quello mi considerano antipatico perché perché sto dicendo che quelli sono la causa queste persone sono persone che hanno nomi e cognomi li ho fatti per Mazzetti non li faccio per gli ospedalieri tanto non vale la pena chi sono stati i presidenti dell'unità sanitaria di Tenomo è noto a tutti non c'è bisogno se lo dica io ecco beh quelli sono quelle persone sono nomi e cognomi e se qualcuno le dicesse ma lei professore pensa male di queste persone comunque a questo giudizio di queste persone perché in qualche modo l'hanno osteggiata no? no no non hanno osteggiato che io sappia non hanno a me personalmente non ho nulla nel modo più assoluto la stessa la stessa maga lì la circo la signora maga circe come si chiama? adesso non c'ho fatica davvero la presidentessa l'ex presidentessa ah ok ok mi dava quest'idea scusami ma non penso che sia offensivo fratelli no secondo me un po' offensivo lo è diciamo che lo pensa lei maga circe no beh mi pare che si ponga più o meno così fascinosa no? cioè mi immagino ma mi pare davvero se se dovesse mai apparire davvero lo dico sinceramente chiedo scusa ma assolutamente in modo non offensivo la ritengo una persona non particolarmente intelligente perché quello che ha fatto con Mazzitti e successivamente quello che ha fatto con il presidente dell'istituto non me la fa classificare come una persona di intelligenza eccelsa ma è anche di cultura molto modesta però non è un giudizio come dire come lo posso definire sul piano umano è sul piano di determinati tipi di caratteristiche che ritengo determinate persone che ricoprono certi ruoli dovrebbero avere e quelli non ce l'hanno quindi ma non è un problema ma però questa signora a me a me personale non ha fatto nulla quindi non è un fatto personale il fatto è che classi dirigenti che sono capaci di distruggere io l'ho fatto tre ma di esempio ce ne sono altri cerchiamo di essere chiati ma fatti quelli più clamorosi di persone di cui conoscevo perfettamente le vicende so che se ne sono andati perché se ne sono andati quali sono le cause che hanno portato però attenzione hanno portato alcune conseguenze che sono lo voglio definire mi viene sta parola l'appassimento dell'ospedale di Teramo di fatto la morte sul piano di quello che era questa grande idea che Mazzetti aveva avuto di un parco motore economico morto non voglio parlare del rischio che mi ci veda a ridere allora queste sono le conseguenze io credo che sia una cosa terribile cioè voglio dire potrei parlare anche di quella di quella di quella di quell'accolita di personaggi musiliani che hanno retto questa città uno e il suo amico peraltro che hanno distrutto le grandi prospettive che l'istituto sul profilato ha avuto e che sono state distrutte da questi quattro musiliani di intelligenza assolutamente modesta di cultura assolutamente proprio da irridere e lei mi dirà sei antipatio che dici queste cose a loro penso di sì però io sto semplicemente dicendo le cose che sono cioè se questi sono stati se della gente è stata così stupida da distruggere prospettive che erano state costruite peraltro da politici terramani perché voglio dire l'istituto a un certo momento stava per decollare davvero e per merito da una parte di Sperandio che lei sa che è un sindaco che non è mai stato popolare a Teramo va bene ma che è stato l'unico sindaco che io ho conosciuto che ha che ha cercato di avere una visione strategica per questa città e che ha agito di conseguenza tante opere sono state programmate poi realizzate in parte da quell'amministrazione in parte dalle altre di Sperandio che è stato un sindaco in viso a questa città e lei lo sa sindaco di periferia brava vogliamo parlare di Carla Castellani altra persona che ha fatto cose straordinarie lo dico per l'istituto dello Filatti com'era Carla Castellani popolare anche lei è una donna giudicata spigolosa ma guarda un po' e com'è tra l'altro lei sta parlando di un esponente al centro-sinistra e un esponente al centro-destra è imparziale quando deve dare dei giudizi positivi e negativi anche perché cerchiamo di essere chiari non scherziamo su questo io non voglio parlare di politica ma Teramo post 92 è diventato un monocolore che poi fanno finta di essere un po' a sinistra e mi ci viene da ridere se permette ero solo e resto un socialista sentire chissà che parla di essere che sono in sinistra arriviamo proprio al comico al comico però ma di fatto sono democristiani cioè se lei va a vedere Teramo è una città democristiana nell'animo sì lo è anche il civismo parte dalla democrazia cristiana cioè la prosecuzione da sperandio in poi diciamo che Teramo è sempre stata amministrata poi riconducibile a centro-destra centro-sinistra ma con liste civiche Teramo è stata pure amministrata dai figli cioè non scherziamo professore mi dicono dalla regia che siamo andati no oltre però io starei quello che vuoi no io non taglio allora in questi giorni e mi scusi se le faccio un esempio proprio nazional popolare basso basso si parla per fortuna meno di coronavirus e molto di Fedez che ha denunciato la censura in Rai no? se c'è una cosa che io non sopporto è la censura per cui lei non verrebbe se dipende come dipende da me questa trasversione lei non viene censurata ma l'unico problema è che a un certo punto ci dobbiamo salutare solo per il saluto avast la censura mai il saluto perché c'è un tempo una trasmissione quella ma come ci vogliamo salutare le do l'opportunità di metterlo cotto sopra lo vullito no ma anche voi allora io come le ho detto anche sopra la sottoscritta perché io mi sono dichiarata all'inizio di questa trasmissione posso anche essere asfaltata dal professor caporale le ho detto una parte della cultura che mio padre mi ha dato ma non le ho detto invece che quella cultura era la cultura che lui mi dava che lui riteneva di dovermi dare affinché io potessi godere dell'unica cosa che conta per una donna e per un uomo e cioè quello di poter essere libero io sono su questo sono d'accordo lo sono e lo ripeto ho avuto il grande privilegio di appartenere a una famiglia che mi ha dato gli strumenti per essere un uomo libero di poter dire come lei sa sempre quello che penso io penso quello che dico e dico quello che penso poi la gente la gente potrà fare tutto ma non potrà mai dire di me che io non dico cose e faccio altro e non potrà mai dire di me che appartengo a quel ciarpame pettegolo e vile che parla alle spalle delle persone questa è la mia vita io la considero un privilegio la gente credo che soprattutto lei non l'ha detto questo questo lo dico io perché me ne sono reso conto tardi probabilmente se me ne fossi reso conto prima sarei stato più diplomatico mi sono reso conto che la gente a terra mi ha invidiato molto perché al di là di dire che ero antipatico invidiava tanto e forse le dico anche francamente che non lo ritengo una cosa brutta ritengo che fosse ragionevole perché essere un uomo libero avere la possibilità di essere un uomo libero è un privilegio grande e a poche persone è dato e io ho avuto questa fortuna nella vita parte ce l'ha avuta l'ho detto perché mio padre e mia mare mi hanno dato questa possibilità ecco qua l'altra però debbo dire che io ci sono pure lavorata l'amica perché la personalità si costruisce anche in base alle esperienze ma perché per essere libero di nuovo non è una cosa che sia per eredità per eredità si hanno gli strumenti poi però gli strumenti non bastano servono a lavorarci sopra e io credo che ho lavorato parecchio sopra io le dico e chiudo così si ricordi questo l'istituto di Teramo dal 1989 al 2011 è stato moltiplicato quattro volte in termini dipendenti è stato moltiplicato mi pare se non vado errato circa il credo il 100% di incremento del patrimonio immobiliare e credo di averlo lasciato da piccolo laboratorio di una piccola provincia di una piccola regione del meridione quando l'ho lasciato mi pare che fosse un istituto conosciuto nel mondo non è solo merito mio è merito di tutti quelli che ci hanno lavorato dentro comunque ma una cosa è certa l'istituto è stato quello che è stato contro la politica di questa città e nella indifferenza della politica di questa regione dopo l'ottimo grande presidente Mattucci Demo Cristiano e il vicepresidente e il mio amico socialista Ugo Giannuzio che sono stati gli ultimi che hanno davvero sostenuto a livello regionale l'istituto zoologianatico dell'Ambruzzo e del Molise e contro la politica fatti salvi le due persone che abbiamo già citato sperando io da una parte e Carla Castellana dall'altra questo deve essere chiaro e ci lasciamo così se questa città continua d'altra parte mi dica quali sono i rapporti fra questa città e la sua università non mi risponda allora se questa città non capisce che non può continuare a distruggere i suoi strumenti l'ospedale l'istituto l'istituto l'università perché che futuro potrà mai avere potrà avere solo un futuro nel quale i suoi giovani i migliori andranno via e rimarranno le virgolette le macerie l'istituto tornerà ad essere per l'amore del cielo non sparisce ma tornerà a essere il piccolo laboratorio di una piccola città di una piccola provincia di una regione del sud l'ospedale ci si è avviato alla grandissima se qualcuno paragona l'ospedale di Teramo inizio anni Ottanta l'ospedale di Teramo oggi se ne rende rapidamente conto o no? ci stava citando lei i professori che sono andati via dall'ospedale di Teramo però c'è in ballo ma questo sarebbe un altro discorso e magari rischiamo di aprire un'altra trasmissione il nuovo ospedale di Teramo ma non le richiedo neanche che cosa pensa perché la invito magari per un'altra trasmissione dove parleremo più dei fatti di attualità e meno di lei come io io intanto come dire sono io nei primi scherzando io non è che sia morto sono ancora vivo se qualcuno ritiene che io possa dire qualcosa che può servire a sta città sono ovviamente fra l'altro mi diverto tanto fra l'altro mi ci diverto tanto e quindi sì credo che questa città potrebbe davvero dovrebbe cambiare marcia alla grande e subito potrebbe anche avere anzi secondo me ci potrebbe avere davvero gli strumenti le possibilità di farlo da po' come dice da po' dipende da essa allora noi salutiamo ringraziamo come sempre il professor caporale ma soprattutto perché come sempre è una perisola lingua a noi le persone così ci piacciono antipatico simpatico a noi piace così com'è grazie professore davvero e grazie anche grazie a voi da parte la sottoscritta per averci rassicurato sulle questioni del coronavirus questo glielo dico ma questo ma a parte questo sul coronavirus per quel poco che io so sono davvero a vostra disposizione perché davvero penso c'è bisogno di conoscenza sì perché credo che sia fino ad oggi l'informazione che è stata fatta sul coronavirus grida vendetta a cospetto di Dio e credo che sia stata una grande vigliacca e noi la disturberemo glielo dico subito se riusciamo a tranquillizzare grazie alla sua conoscenza anche una sola persona noi abbiamo fatto bene no no io guardi credo come le ho detto la paura che è stata messa addosso agli italiani è stata una cosa vile la covid non è uno scherzo perché comunque è una malattia che può essere mortale ma non è sicuramente una malattia da cui si deve avere la paura che è stata istillata alla popolazione di questo paese grazie grazie al professor Vincenzo Caporale grazie a voi per l'attenzione arrivederci a mercoledì prossimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti